Buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere l'Ipnosi e Soluzione. Oggi parleremo ragazzi di shopping, shopping, consumismo. È possibile che il consumismo sia un'ipnosi di massa? Cioè è possibile che la gente, la maggior parte della gente, spenda, espanda, perché condizionata dai poteri forti, dalla pubblicità, dai mass media, da quando sono piccolini su questa terra fino alla loro morte? Bene, ti posso garantire da studi scientifici che negli anni 60, avendo esaurito saturo il mercato americano, tutte le multinazionali assunsero i migliori esperti di mente per creare dei bisogni che non esistevano nella mente delle persone. Mentre prima esistevano i bisogni reali, tipo si rompeva una scarpa, tu la riparavi e la usavi finché la scarpa non funzionava più, dopodiché hanno iniziato a creare dei bisogni immaginari, bisogno uguale, soddisfazione, soluzione al bisogno. Che cosa ha a che vedere l'ipnosi vera e professionale in tutto questo discorso? Beh, se tu sei a livelli esagerati di ipnosi negativa di spendere e espandere, beh, puoi cercare di utilizzare l'ipnosi vera e professionale presso un professionista della tua zona e eliminare questo problema che ti porta a non farti mantenere i soldi in tasca ogni santo mese. Esistono sistemi come l'ipnosi vera e professionale che ti limitano, riducono o eliminano completamente la dipendenza dello shopping, la dipendenza dello speppero, la dipendenza del consumismo. Non credere a me, non sono un santo, non sono un guru, sono soltanto un professionista dell'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola che si distingue dall'ipnosi conformista e commerciale che trovi in giro e credi in te stesso, ok? Oltretutto sono anche un imprenditore che ha molte attività in Italia e all'estero e ti posso garantire che tutto è ipnosi, come diceva anche Milton Erikson, anzi io aggiungo tutto è suggestione, per cui sei più forte di te quando spendi e spandi, quando segui la griff, quando segui la moda, quando segui la pubblicità in tv, vuol dire che sei stato ipnotizzato. Per deipnotizzarti devi usare l'ipnosi vera e professionale, senza ma e senza se. Fammi tutte le domande del caso, se hai questo problema, visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi auto-ipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube per essere ipnosi e soluzioni di cese del dottor Claudio Saracino e faccia il condivide con amici e parenti perché può essere quel quid che gli cambia la vita e clicca sulla campanella in basso per le novità e visita anche i miei profili Instagram e Twitter per essere ipnosi e soluzioni di cese del dottor Claudio Saracino. E al prossimo video, un bacio e un abbraccio. Grazie.